Buonasera, bentrovati e pronti per iniziare questa serata ermetica. No, una serata che aprirà la nostra mente all'ermeneutica. Ma che cosa ci fa? Ad esempio una scrittura cuneiforme che si scrive con una tavoletta d'argilla, il cuneo di giunco, e poi la si legge in due modi diversi, uno per il popolo, con un certo senso popolare, e un altro per chi conosce l'agnosi veramente, chi conosce la sapienza, con un altro significato totalmente diverso. E la scrittura è la stessa. Che cosa ci fa origine, clemente, insieme alla mistica, insieme alla poesia, insieme al simbolo, insieme ai trovadori? Siamo in un mondo che è il mondo esattamente di una manifestazione del senso non appariscente, mai appariscente, sempre nascosto. Ecco, questa sera avremo modo con l'aiuto di due professori di altissimo livello, di cui conosciamo già il primo nome, perché ricordate lo scorso anno abbiamo presentato il secondo volume della storia della mistica cristiana, il professor Francesco Zambon, e il secondo che conosciamo questa sera, e lo apprezzeremo, ve lo assicuro, il professore Bologna, Corrado, mi sfugge sempre il nome, Corrado, Bologna, perché ci introdurranno in questo fiore inverso? Non ho niente di più da dire. C'è tutto qui, in un titolo che dice quello che scopriremo insieme. Grazie della vostra presenza, grazie ad Armando che guiderà questo incontro di alto profilo culturale. Grazie. Grazie Monsignor Borgonovo e grazie a voi tutti. Questa sera abbiamo una riflessione che parte da questo libro titolo Il fiore inverso, che è una raccolta di testi dei trovatori, almeno dei trobarclus, la parte più ermetica, diciamo, la corrente più ermetica. Poi sentiremo dai nostri relatori. Ma attraverso questo motivo vedremo come sarà possibile ispezionare, guardare, osservare le radici di molta poesia attuale e le radici anche della poesia moderna. L'invito a occuparci di poesia venne non molto tempo fa dal nostro arcivescovo che, se vi ricordate, sollecitò anche qualche incontro per riflettere sulla poesia. Noi abbiamo avuto degli incontri su Shelley, abbiamo avuto anche delle altre riflessioni. Ma questa sera, diciamo, andiamo un po' nel laboratorio della poesia europea. Del resto, quando si parla di poesia è sempre un po' difficile perché qui accanto a me ho due filologi c'è da tremare i polsi parlare di poesia con loro perché ricordo ad esempio il professor Corrado Bologna che è stato ricordato appunto come parte, diciamo, controparte di questa presentazione. Tenete presente che lui ha curato tra le molte cose e autore di un libro che è La macchina del furioso pubblicato da Inaudi ma è autore anche del saggio traduzione e fortuna dei classici italiani, da Inaudi. Sei sempre occupato di poesia. L'ultimo libro che ha pubblicato è Flatus Vocius da Sossella. E vedremo anche come il professor Zambona ha affrontato questo tema. So che ci ha lavorato più di una decina d'anni. Ovviamente questi lavori non è che vengono fatti con continuità. Magari si affrontano in parte, si lasciano depositare, si ripensano, si pentono, si rivedono, eccetera. Fino a quando questo libro insomma è nato. E dobbiamo anche ringraziare l'editore Luni che è qua presente anche con la signora Costanza per aver pubblicato questo libro e lo stesso Zambona ha detto pubblicato molto bene. Cioè pubblicato con i testi, con tutto quello che è l'apparato. Io ricordo anche il professor Zambona visto che ho ricordato le opere del professor Bologna per par condicio non vorrei essere poi accusato di discriminazioni. Però io con il professor Zambona ho sempre difficoltà perché se ricordo questo libro, se ricordo ad esempio che è in corso e lo ha detto anche Monsignor Borgonovo questa raccolta di testi mistici cristiani, siamo al secondo volume ma attendiamo il terzo, professore, a quest'anno ci sarà il terzo negli meridiani mondadori, ha anche autore e anche autore di una storia dell'allegoria pubblicata da Carocci or non eguari insomma tra poco tempo fa. Però io lo ricordo sempre con un infinito affetto per la collana di testi medievali sono oltre 150-160 circa dove sono usciti i testi che vanno dall'umanesimo all'alto medioevo e dove c'è veramente una raccolta che mancava alla cultura italiana, mancava anche diciamo ai curiosi, agli studiosi, agli studenti un po' a tutti. È un lavoro che tra l'altro è durato mi pare tre editori perché è partito con pratiche è passato a Luni e adesso è da Carocci. Chissà mai che ritorni a Luni magari un giorno o l'altro vedremo. In ogni caso io devo sparire come sempre e vorrei invitare il professor Corrado Bologna che tra l'altro lo ringrazio anche personalmente perché ci siamo incontrati tanti anni fa ma si è ricordato del nostro passato insomma di quelli che sono i giochi circensi di chi presenta libri o di chi si occupa di cultura ecco professor Bologna parliamo un po' di questo fiore inverso di questa raccolta diciamo che non è stata mai concepita dal punto di vista editoriale in italiano che cosa significa questo Trobar Clus questo strano gruppo di situazioni di persone di ermetici a lei la parola c'è un verso famoso di Orazio che bisogna mettere per forza ad exergo brevis es laboro obscurus fio io devo dire brevis es volo obscurus nolo fieri mi piacerebbe nella brevità assoluta di questo incontro un'ora circa di ragionamento provare a riversare l'entusiasmo che mi ha generato la lettura dei tanti libri che sono dentro questo libro c'è anzitutto una antologia la prima antologia completa completa per quanto può essere completa ho visto il punto di partenza e cioè che cosa è Trobar Clus è una linea una scuola una tendenza della cultura provenzale poetica del dodicesimo secolo a far poesia difficile chi usa Trobar Clus vuol dire fare poesia trovare il verbo è quello trovatori in modo oscuro intenzionalmente oscuro questo è il primo miracolo i primi poeti in lingua volgare Marca Bru appartiene alla seconda insomma tra la prima e la seconda generazione quindi incomincia subito appena la poesia dice io io in lingua volgare incomincia immediatamente a essere difficile prima domanda perché quindi contiene un'antologia la prima tematica di questo genere che attraversa praticamente tutta la tradizione dal grande Marca Bru maestro supremo ad alcuni nomi altissimi come Pere del Vernia come soprattutto come soprattutto Arnaut Daniel e poi quel grande personaggio che è già nel titolo che è Rainbaut d'Aurenga nomi che ad alcuni dei presenti immagino la maggioranza risulteranno estranei chiamiamoli al tavolo come amici il secondo libro che è dentro questo libro è un saggio bellissimo di introduzione sull'oscurità Francesco Zambon aveva già contribuito notevolmente ad arricchire un volume che si chiamava che si chiama Obscuritas retorica e poetica dell'oscuro in cui c'è un suo saggio che in qualche modo si lega proprio a questa introduzione e dimostra quanto lunga e ampia sia la sua frequentazione del tema e il suo approfondimento voglio approfittare almeno per ricordare anche un saggio molto bello di Mario Mancini che noi conosciamo fin da quando ci siamo incontrati la prima volta con Francesco dedicato a oscurità e iniziazione un'ipotesi di Leo Strauss l'idea di fondo è che ci sia una scrittura della reticenza che cioè la filosofia e Strauss studia soprattutto Maimonide e tutti sanno quanto la prima poesia provenzale ce l'hanno insegnato i grandi maestri Roncaglia per tutti è legata anche alla tradizione ebraica di Spagna ebbene come ci sia un Tromarcluse che è un discorso iniziatico che resiste ad essere trasparente perché il filosofo si trova in un mondo difficile in cui non tutti possono cogliere il senso pieno delle parole su questo staremo e direi che i giorni terribili che tutti noi stiamo vivendo dimostrano come per una sola parola in più o in meno si rischi la vita si rischino 15 anni di prigione si rischi di perdere la libertà l'importanza dunque della parola che qui viene recuperata dal suo contrario cioè dalla reticenza dalla parola che si fa chiusa che si fa oscura che si trattiene in qualche modo si trattiene però esponendosi e invitando il lettore a compiere un percorso iniziatico di metamorfosi per diventare capace di cogliere quel senso profondo che sta dentro quella poesia il terzo libro che è qui contenuto è un libro di traduzioni italiane ma vorrei che questo tema lo toccasse proprio più tardi Francesco Zambon fatemi partire nel mio breve primo intervento da una frase che ho sempre ammirato molto per la sua ironia profonda le poesie di suo nipote si capiscono poco chi lo dice la mitica maestra Morquette immagine contraddittoria della pedagogia ingenua e necessaria così la definisce Andrea Zanzotto la maestra di Andrea Zanzotto quando lui pubblica già le prime collezioni di poesia scrive a sua zia e dice guardi suo nipote scrive che non si capisce niente ora sull'oscurità di Andrea Zanzotto ce ne sarebbe da dire è uno dei più grandi poeti del novecento di cui Francesco Zandon si è occupato molto anche di Andrea Zanzotto e della poesia ermetica e su questo dirò una parola alla fine che cosa vuol dire allora che non si capisce tanto una poesia che sono oscure le poesie di Zanzotto come le poesie di Marco Bruno mille anni prima vuol dire che c'è probabilmente una tessitura intenzionale una trama un tappeto un mettere in versi mettere in verso i propri versi sentite già il gioco di parole il fiore in verso è anche un fiore in verso versificato fatto verso anzi come Zambon ricorda e come Roncaglia ribadì sottolineando questo questo verbo importante è inversar cioè mettere in versi quasi versare dentro uno stampo versare dentro uno un un luogo in cui prenda forma una statua un oggetto le metafore già oraziane del fabbro che lima la sua opera d'arte sono poi dei trovatori parto con una frase di Francesco Zambon pagina 62 del suo libro per chi lo ha tra le mani l'immagine iniziale della florsa inversa compende ammirabilmente il senso dell'intera canzone ora dirò meglio che cos'è il fiore in verso è la neve e il ghiaccio quindi è una sorta di emblema che fonde i due opposti tra i quali oscilla il testo il gelo del mondo esterno e il fiore della passione interiore al tempo stesso la parola rima inversa cioè una parola che si ripete da una strofe all'altra questa parola inversa la prima della serie disegna il meccanismo di inversione che regola questa macchina meravigliosa che è un testo dunque un testo che è contemporaneamente una grande allegoria una grande allegoria di se stesso ricorda Francesco Zambon che Mallarmé il famoso sonetto in X lo chiamava proprio così un'allegoria della sua stessa poesia di quella poesia un'allegoria di se stesso la troverete questa bellissima poesia di Mallarmé tra i sonetti a pagina 68 della playad per chi è interessato ed è tutta giocata su X cioè Y e X una rima rara ricca cara chiusa Mallarmé è uno dei più grandi interpreti moderni del Trovariclus fondato da Marco Bruno ma è inversa appunto significa anche mettere in versi e rivela come questo rovesciamento tecnico questo gioco di parole sia l'anima del dispositivo testuale e in qualche modo sia la poesia stessa cioè c'è una poesia che parla di se stessa e parla di se stessa in questo modo immagino che Francesco poi ne leggerà dei versi Ar resplan la flor s'inversa ora splende il fiore inverso su rocce taglienti e monti che fiore neve gelo e ghiaccio che brucia torture e taglia morti trilli gridi e fischi vedo su frasche rami e verghe ma mi tien verde e gaio gioia ora che vedo rinsecchiti i vili e poi la seconda strofe sentite tutto in modo tale inverto c'era la fiore inverso che qui diventa inverto poi c'è il verbo io sto invertendo cioè sto rovesciando sto componendo una complicatissima struttura che se avrà voglia Francesco Zambon cercherà di affrontare che però è piena di fonetica è piena di giochi fonetici e semantici n-r-ar in quella macchina del furioso provavo a trovarli nell'ariosto quanti giochi fonetici nessuno ha mai pensato per esempio che Orlando quando legge medoro resta colpito dalla sillaba da quel or-lan med-or-lando med-or-lando così fanno i poeti così giocano con i propri versi ma soprattutto una poesia che designa il meccanismo formale su cui è costruita come un fiore un fiore che è il contrario di ciò che è un fiore cioè ghiaccio neve lucore non quella primavera interiore a cui invece deve alludere per rovesciamento cioè per inversione sentite che bella definizione da nel presentare questa poesia Francesco Zambon la canzone il resplan suggerirebbe insomma che la finissima elaborazione metrica e stilistica propria del trobar car o ric che è una forma ancora più avanzata ed estremistica del trobar clus di cui è un esempio in signe sia solidale attenti oia di una concezione della poesia come risarcimento del male proveniente da una realtà ostile e minacciosa ditemi se non è di questi nostri giorni tristi pensare quanto la cultura e la poesia come forma suprema della cultura sia necessaria per risarcire dentro di noi una lacerazione che altrimenti non sappiamo formalizzare non sappiamo sopportare e quindi questo oggetto compatto e perfetto autosufficiente costruito per così dire sul rovescio del tappeto ma altrettanto reale del tappeto stesso ecco la realtà di una poesia che si costruisce come un tappeto Don Quixote diceva che i tappeti fiamminghi gli arazzi si capiscono meglio se uno gli gira dietro e vede i nodi con cui sono costruiti ecco in qualche modo Francesco Zambon fa questo gira dietro le poesie ci svela i nodi che le costituiscono e poi le svolge in lingua italiana però poiché il tempo è veramente molto tiranno io vorrei darvi un esempio di una bella versione secondo me sono tutte veramente affascinanti una bella versione di un testo sempre di Rimbaudo d'Aurenga per cui abbiamo io credo Francesco una passione tutti il vecchio amico Gigi Milone ne ha dato delle traduzioni mirabili sentite come Harvey Bru escur trebo il cielo e lì finisce il verso che si tradurrebbe adesso vedo ora vedo bruno scuro tempesto pieno di tempesta il cielo e invece la zambonizzazione di Rimbaudo è questa oscuro fosco tempestoso il cielo vedo con un potentissimo angiambement e ricordiamoci che il primo angiambement della poesia moderna nasce con Geoffrey Roudel quando si dice che mi sostrà la carne questa ferita d'amore mi strappa via la carne ecco quella pausa quella voluta pausa che manda il verbo vedo che era all'inizio lo manda all'inizio del secondo verso costringendoci a compiere due operazioni seguire la metrica oscuro fosco tempestoso il cielo io lo so che Francesco mi sta un po' odiando perché ho scelto un endecasillabo mentre le sue versioni belle qua dentro sono i settenari sono gli otto sillabi sono i senari ma avere la forza di un endecasillabo a minori di quarta con un accento di ottava e un angiambement per restituire quel verso provenzale la dice lunga e poi anche se io disvelassi i miei libri d'amore scritti con parole oscure ecco vado a chiudere questo primo intervento su questa idea della oscurità delle parole oscure perché dicevo in partenza debbono essere intenzionalmente oscure le parole del poeta che fa Trobar Clus c'è una spiegazione molto originale molto nuova che si lega a mio parere ad una scoperta autentica filologica di Francesco Zambon e cioè che dietro Marco Bruno soprattutto in una poesia che dice per Saville tenc sest optanza lo ritengo proprio saggio colui che riesce a capire le parole difficili che io scrivo perché io a mia volta ho difficoltà a capire le parole difficili delle scritture ecco la grande originale e questo luogo direi che accoglie bene questa proposta di Francesco la grande originale scoperta è che Marco Bruno sta facendo riferimento esplicito a Salomone che per tutto il medioevo è ritenuto l'autore dei proverbi e il più saggio dei poeti e che dunque il poeta Marco Bruno che fa Trobar Clus stia imitando il più sapiente e oscuro dei poeti la traduzione italiana di questo incipit dei proverbi dice ascoltando il sapiente sarà più sapiente e comprendendo reggerà il timone considererà il discorso oscuro la parabola il latino dice animadvertet parabola et interpretazione e la sua interpretazione le parole dei sapienti e i loro enigmi ecco allora perché Marco Bruno utilizza non la parola moz che in provenzale vuol dire provenzale semplice corrente vuol dire parola come francese moderno le mo ma usa la parola paraula e scura perché la sua paraula non è solo un moz è una parabola quindi lui sta parabolando esattamente come ha fatto Gesù come hanno fatto i sapienti antichi come hanno fatto le sacre scritture ecco questa illuminazione che parte da che parte da Agostino parte da origine Clemente e Alessandrino e i grandi interpreti antichi dei testi sacri giunge però a un punto fondamentale mi sembra che è proprio questo c'è una cifrazione c'è un enigma a enigma erano definiti i testi sacri anticamente l'oscurità voluta deve in qualche modo esercitare la nostra mente di lettori ad approfondire la difficoltà del testo di ogni testo imparare a leggere il testo per imparare a leggere il testo della vita del mondo c'è un principio etico su cui torneremo fra poco e per questo mi piace molto che Francesco Zambon definisca questo passaggio questa teoria e pratica del Trobar Clus non un'esperienza marginale medievale e superata ma un salto vertiginoso verso la modernità sono partito sono partito citando Zanzotto e Mallarmè ma si potrebbe andare molto avanti e magari ci si torna dopo per tutti ricordo solo la Sestina che dicevo la poesia sulla florsa inversa con i suoi giochi di riprese e inversioni di parole stimola e la Sestina la grande poesia di Arnaut Daniel è quella forma la più alta la più complicata la più incomprensibile di tutta la tradizione e forse anche la più imitata dopo il sonetto la più imitata voi pensate che hanno scritto Sestine cito solo due o tre dei moderni Ungaretti Ezra Pound Pierpaolo Pasolini Roncaglia la cercava non si è mai trovata va scavata ancora la Sestina di Pierpaolo Pasolini e io direi che qui mi fermo Armando Torno perché il salto vertiginoso credo si sia già compiuto anche solo su questo dispositivo questa macchina testuale che è allegoria di se stessa e di tutta la poesia futura a venire grazie professor Bologna perché ci ha un po' introdotto in questo mondo anche con citazioni bibliche che penso siano la gioia del nostro Monsignor Borgonovo ma ora professor Zambon lei ha confessato oltre dieci anni di lavoro di diciamo di laboratorio di cantiere innanzitutto il professor Bologna ha fatto degli esempi allora io le chiedo come li ha tradotti questi poeti questi trobarclus così chiusi e poi se lei desiderasse trasformarsi anche in lettore fine di citore ne ha facoltà diciamo che non le chiediamo nulla di particolare però se ci fa sentire qualcosa perché siccome questa è la prima antologia di questo genere dobbiamo anche tenere presente che questa sarebbe la prima recita di questo tipo di poesia fatta pubblicamente dal suo curatore in una condizione estremamente particolare perché una scuola della cattedrale è indubbiamente un incontro serio quindi a lei la parola professore grazie allora il il riferimento alla drammatica attualità che ha fatto Corrado Bologna prima mi sembra obbligatorio mi è fatto venire in mente una poesia di Pessoa una bellissima poesia attribuita al suo eteronimo Riccardo Reisch si tratta di due scacchisti persiani che durante una guerra in cui scorre il sangue in cui vengono uccise le loro mogli i loro figli loro stessi rischiano la vita due scacchisti continuano a giocare la loro partita di scacchi e naturalmente il male che c'è nel mondo resta e e questi due scacchisti rischiano ad ogni momento la vita però vogliono giocare la partita nel modo migliore possibile e a un certo momento Pessoa dice succeda quel che succede intorno l'importante è che quando tutto questo finirà il re non sia sotto scacco e il pedone più avanzato possa prendere la torre e questo mi pare che sia una metafora anche così del significato che può avere la poesia e che i trovatori certamente hanno introdotto nella tradizione occidentale perché sono la prima grande esperienza lirica moderna insomma di poesia ora io per rispondere appunto alla domanda ho scelto di tradurre queste poesie dei trovatori rispettando nel modo più rigoroso possibile la loro metrica originale cioè naturalmente trasponendola nella metrica italiana che però per molti aspetti è simile anzi è derivata da quella provenzale e da quella francese antica l'indecassillabo italiano in particolare deriva con una sua certa evoluzione con alcune differenze dal decassillabo provenzale decassillabo perché nella metrica provenzale si computa in una maniera diversa il numero di sillabe cioè si conta fino all'ultima sillaba tonica e mentre nella metrica italiana si conta sempre che ci sia o no una sillaba atona finale quindi questo l'ho fatto perché nella tradizione diciamo delle traduzioni dai trovatori sono state fatte molte scelte ci sono diciamo esempi molto diversi ci sono le traduzioni cosiddette di servizio traduzioni in prosa che di solito accompagnano le edizioni dei testi originali sono delle traduzioni letterali fatte per capire esattamente il senso del del testo originale poi però ci sono traduzioni cosiddette alineari cioè verso per verso rispettando diciamo la diffizione dei versi originale ma senza una rispetto della metrica e neanche del ritmo insomma dell'originale quindi in pratica sono traduzioni in prosa soltanto che si va a capo quando finisce il verso originale e poi ci sono anche dei tentativi di traduzione poetica vera e propria cioè metrica insomma però in genere queste traduzioni non rispettano anzi direi quasi mai tranne dei casi isolati di singole composizioni di singoli componimenti non rispettano la metrica originale provenzale che è molto ricca è molto varia i trovatori erano dei grandi sperimentatori metrici come dimostra appunto anche la sestina di cui ha appena parlato Corrado Bologna questa forma così raffinata e difficile in un certo senso che però ha avuto un successo straordinario fino al novecento fino alla nostra epoca e quindi a me è parso necessario rendere anche in italiano questa grande varietà di ritmi e di metri che è presente negli originali allora io vorrei come mi ha gentilmente chiesto Armando Torno leggere qualche testo qualche verso di tre quattro poesie e anche un un testo un qualche esempio qualche strofa originale in lingua doc ecco questo è queste sono le prime due strofe Koblas in provenzale della poesia di Marco Bruno che citava prima Corrado Bologna stimo per certo sapiente chi comprende nel mio canto di ogni parola il senso come si sviluppa il tema che io stesso stento a rendere chiara una parola oscura infantili trovatori creano noi ai valorosi e riducono in rovina quel che ci offre verità volontariamente intrecciano delle parole in frantumi poi su questo tema dei frantumi dello spezzato e dell'intero credo che vorrà dire qualche cosa Corrado Bologna ecco questo è un testo molto importante dal punto di vista teorico perché è un dibattito fra due grandi trovatori ecco qui ho fatto un errore nel titolo è Reimbaud d'Aurenga e Ghiraut de Borneglie non Arnaut Daniel è un dibattito fra questi due grandi trovatori Reimbaud d'Aurenga e Ghiraut de Borneglie proprio sul tema dell'oscurità in poesia e cioè qui Ghiraut de Borneglie prende le parti del poetare facile dice che la poesia deve essere facile di facile comprensione Reimbaud gli obietta gli contrappone la tesi invece di difesa del Troubarclus e cioè la poesia deve essere chiusa di difficile accesso qui vi leggo alcune però una buona parte di questo dibattito di questa tenzone come si chiamava questo genere di discussione dibattito fra due trovatori perché è centrale insomma per la comprensione di questo stile poetico mi piace Ghiraut de Borneglie sapere qui parla evidentemente Reimbaud d'Aurenga sapere perché andate criticando la poesia chiusa e con quali argomenti ditemi se tanto apprezzate ciò che è comune a tutti quanti allora tutti sono uguali Messer l'Ignaure lo chiama con un nomignolo con un soprannome con cui era noto Reimbaud d'Aurenga ognuno scriva come gli pare io non me ne dolgo ma quanto a me sono convinto che un canto è più apprezzato e amato se è chiaro e popolare non ve le abbiate a male se ve lo dico Ghiraut non voglio che la mia poesia finisca in tal schiamazzo da piacere a grandi e piccoli a cattivi e buoni non sarà mai lodata dagli sciocchi che ignorano né gliene importa ciò che è più raro e più prezioso l'Ignaure se per questo veglio e muto in sforzo il mio riposo è che ho timore dei giudizi perché scrivete se non vi interessa che tutti subito lo sappiano tanto non porta altro guadagno Ghiraut purché tu appronti il meglio lo esprima presto e lo sviluppi che importa se non si diffonde cosa volgare non è cosa degna perciò si apprezza l'oro più del sale vale lo stesso per il canto l'Ignaure siete molto saggio a contrapporvi così a molti ma sebbene mi costi maggior pena più si giova il mio canto se uno con voce rauca me lo esegue male che se lo affido a un salariato ecco poi infine no poi leggerei anche un piccolo pezzo della sestina alla poesia di cui si è tanto parlato quella del fiore inverso insomma ne ha letto alcuni versi prima Corrado Bologna leggo le prime due strofe e la sesta dove c'è questo gioco di parole tra l'inversar il rovesciare e il inversar nel senso di mettere inversi ora splende il fiore inverso su rocce taglienti e monti che fiore neve gelo e ghiaccio che brucia tortura e taglia morti trilli gridi e fischi vedo su frasche rami e verghe ma viti in verde e gaio gioia or che vedo rinsecchiti i vili seconda strofa qui vedete che tutti i versi e io ho rispettato questo finiscono con le stesse parole rima tutto in modo tale con piccole variazioni diciamo morfologiche no plurale per singolare eccetera insomma che non ho potuto rispettare rigorosamente nella traduzione però il verso la parola rima è rispettata tutto in modo tale inverto che pianure credo i monti e mi pare fiore il ghiaccio e che il caldo e il freddo tagli e che i tuoni siano canti e fischi e frondose siano le verghe sono così saldo nella gioia che niente vedo mi sia vile la sesta strofa naturalmente sempre le stesse parole rima vadano i miei versi inversi sì che balza non li freni o monte dove non si sente ghiaccio né può il freddo fare tagli li canti a madonna e fischi sì che nel cuore le entrino le verghe chi sa cantar con gioia cosa non è per un cantore vile io qui nella traduzione ho anche cercato di rendere un po' il suono aspro e ricco di giochi di giochi fonici proprio come ricordava prima Corrado Bologna e vi leggo quindi le prime due strofe soltanto in Ligua d'Oc nel testo originale er resplam la flor semversa pels trencans rancs e pels tertres calz flors neus gels e cunglapis che cozze d'estrenne trenca dove i morts kills crits e siscles pels fels pels lam e pels giscles ma smitten verte già usen giois er canven sex lus dolens crois car e nei si o in verse che bel plan mi semblò il tertre e tenc per flor luco un glapi e il cauz mesvis che il fred trenca e il tron mi sonciante siscle e parum fugliat l'igiscle ai si sui ferm lassaz e n gioi car re novei che mi sia croi e infine allora leggo le prime due strofe della sestina di arnaut daniel la sestina magari forse meglio chiarirlo questo è una canzone che però ha la particolarità di applicare il intanto l'uso delle parole rima come nel precedente componimento di arnaut di reinbaut daurenga ogni strofa ripete le stesse parole rima ma in più queste parole rima sono disposte con una combinatoria particolare che si chiama retrogradazione incrociata cioè le parole rima sono ripetute all'inverso ma non completamente all'inverso all'inverso incrociando cioè ultima prima penultima seconda e così via in modo tale che quando si arrivasse alla settima strofa si avrebbe lo stesso ordine della prima per cui la sestina è fatta di sei strofe e alla settima non c'è si ritornerebbe se ci fosse insomma all'ordine delle parole rima della prima la ferma volontà che mentre in cuore non la intacca becco né unghia di maldicente che dannata all'anima non oso batterlo con ramo o verga ma di soppiatto dove non c'è zio godrò gioia in giardino o dentro camera quando penso alla camera dove a mio danno so che nessuno entra tutti a mi son più che fratello o zio e non ho un membro che non tremi né unghia più del fanciullo di fronte alla verga tanto temo che troppo sua sia l'anima naturalmente come ha spiegato per primo molto bene un filologo della fine dell'ottocento Canello questa ripetizione delle stesse parole rima ma in ordine diverso e con un significato leggermente variato crea come una sorta di ossessione di ossessione sui temi che sono trattati che ritornano continuamente con le stesse parole leggermente variate di senso e nello stesso tempo la ripetizione delle stesse parole tende a togliere il significato alla parola stessa a renderla quasi un oggetto non significante un oggetto tra gli altri oggetti il che rende la poesia in qualche modo qualche cosa di autonomo in sé una specie di diamante chiuso in se stesso che ha il suo senso in se stesso che è l'esperienza che tutti possono avere ripetendo molte volte la stessa parola tende poi alla fine a perdere il suo significato a diventare un semplice suono grazie professor Zambon per tutta questa diciamo spiegazione dei versi io ripasserei adesso la parola a professor Corrado Bologna so che ha molte altre cose da dire però so che c'è anche un aggettivo che la tormenta dentro queste pagine c'è qualcosa che una specie di non dico di fastidio ma di vorrebbe sistemarlo acciuffarlo fermarlo lì chiarirlo allora a lei la parola è un po' come la pantera profumata di cui parla Dante nel De Vulgaria Eloquenza che tutti inseguiamo lui per primo per Pasqua sui monti e diceva Andrea Zanzotto questa pantera non si lascia acciuffare neanche per la coda Zanzotto lo diceva in un bel intervento in una scuola di Parma nel 1981 ai ragazzi insomma la pantera non si acciuffa mai è proprio quello che lei stava dicendo ora però ritorniamo da capo al desiderio dell'ermeneutica nella parola ermeneutica c'è la parola Hermes che è l'antico dio dell'interpretazione ma c'è anche con Hermes l'ermetismo ossia la difficoltà di giungere ad una interpretazione corretta ecco credo che questo sia un principio etico fondamentale morale etico addestrarsi all'ermeneutica credo che sia il principio a cui ognuno di noi che faccia il professore il giornalista che faccia la massaia la madre il padre debba addestrare i giovani a cogliere la complessità a interpretare senza accontentarsi dell'ovvio del banale si diceva pochi istanti fa tra noi che il grande timore è che tutto si bruci nella smartfonizzazione dell'immediato in qualsiasi istante noi vediamo i ragazzi che si siedono un tavolo l'uno accanto all'altro e ognuno si perde nel suo viaggio diceva Vasco Rossi un poeta molto amato dai ragazzi di oggi nel suo viaggio mentale ognuno crede di essere dentro la realtà perché è in contatto con l'immediato cioè perché gli giungono immediatamente le notizie credo che questo dell'immediatezza sia una prima cosa da dire subito e sto cercando già di rispondere alla sua domanda cioè qual è l'aggettivo che mi tormenta questo aggettivo è entiers intero integrale integro c'è un valore nella scelta dei poeti del Tromarcluse farò due o tre esempi che lo stesso Francesco Zambone esalta nel suo saggio introduttivo sono Marcabru Bernard Martì e Pere d'Alvernia perché c'è un valore che collega l'estetica all'etica così fortemente nella parola intero integrale e che rapporto ha questo con la mediazione questo mi pare un punto fondamentale noi dobbiamo oggi riscattare e questa antologia poetica insegnandoci a leggere ciò che è difficile per sua definizione e insegnandoci anche a guardare come nella modernità si sviluppino queste esperienze estreme Francesco è un grande specialista di Pessoa lo ha citato a memoria poco fa e tra un istante dirò una cosa su Pessoa e la sua fiducia nell'integrità nella totalità nell'intierezza ecco noi dobbiamo insegnare ai nostri giovani la necessità della mediazione Angelos lo chiamavano gli antichi in greco colui che scende dall'alto per portarci una comunicazione c'è qualcosa di profondamente teologico in questa poesia antica la sestina letta poco fa da Francesco Zambon è stata interpretata da Giorgio Agamben uno dei nostri filosofi più alti come un testo di carattere messianico lo stesso Francesco Zambon ci ha segnalato che alla fine della sesta permutazione possibile la settima non è più possibile perché torna a essere la prima come nei sei giorni della creazione il settimo quello della pausa il giorno atteso il giorno della rivelazione si attende messianicamente e per diceva il grande Walter Benjamin in ogni istante in ogni attimo può filtrare attraverso una porta un pertugio un interstizio quel messia che stiamo attendendo mi pare che questa poesia antica come molta poesia moderna persona ma un garetti ma montale mi rimolto a collegare l'oscurità naturale del dire poetico che si sforza di prendere per la coda quella pantera che fugge e contemporaneamente di farlo in modo integrale intero ritorniamo ancora a quel Marca Bru citato molto opportunamente da Francesco Zamboni il quale dice che questo componimento contiene all'inizio una delle più importanti formulazioni del Trovar Clus di Marca Bru per Savitain Sestoptans se lui che moncian devina stimo per certo sapiente chi comprende il mio canto di ogni parola il senso e poi ritroviamo qua quella famosa esclarzir paraola oscura schiarire illuminare portare luce nella parabola scura Marca Bru si sta proponendo come ermeneuta come un Hermes che ci accompagna nell'interpretazione mediata nella grande mediazione diventa qui il poeta l'ermeneuta di se stesso perché lui stesso dice che lui vuole fare versi integrali interi interi entiers e non come quelli che fanno lo smoz per esmanza entrebescaz dei fraiciura non come quelli che compongono parole infrantumi traduce molto opportunamente Francesco le parole infrantumi sono la frantumazione dell'universo rappresentano quel mondo perduto dell'unità che ogni pensiero gnostico desidera di riscattare integrale intero come mi piacerebbe aver tempo per sottolineare quanto nella poesia moderna a partire dal suo più alto nome Charles Baudelaire quel che tu viennes du ciel ou de l'enfer qu'importe non c'è più differenza tra cielo e inferno ma c'è desiderio di cogliere nuovamente le corrispondenze i come dire i collegamenti tra i frammenti in cui la poesia si è scheggiata perché il mondo si è scheggiato e Bernard Martí un poeta che amo tanto anche se uno dei minori ed è qui presentato e tradotto in modo molto bello e lui dice e lui dice invece proprio crea un'opposizione tra il fagg e l'enters di nuovo cioè c'è qualcosa che si può presentare intero ma che noi vediamo solo frammentato e così anche per Edalvergne sopra il Vieltrobar dove si dice sul vecchio e nuovo poetare voglio mostrare il mio parere ai saggi perché coloro che verranno intendano che mai fu fatta canzone perfetta che non fu mai feits vers entiers è praticamente impossibile giungere alla perfezione ma è contemporaneamente quel grande ideale che è spinto dalla poesia come lo leggo ancora una volta questa bellissima frase del commento di Zambon alla Reimbaut d'Aurenga la concezione della poesia come risarcimento del male proveniente da una realtà ostile minacciosa già Roncagli aveva segnalato come lui diceva il mettere in versi stabilisce esplicitamente un'equazione quanto mai suggestiva tra poesia e trasfigurazione rirovesciamento della realtà la poesia in qualche modo rovescia la realtà perché la restituisce a quell'interezza che la realtà ha perduto allora fatemi concludere con l'evocazione di Orazio l'ho già citato in partenza l'Ars Poetica è il testo base per tutto il Medioevo purtroppo ce lo dimentichiamo troppo spesso ecco aggiungo anche per mostrare quanto mi abbia appassionato la lettura di questo libro nei dettagli aggiungo per esempio che ci sono alcune scoperte filologiche importanti ho detto prima la segnalazione dell'incipit dei proverbi di Salomone che non era mai stata individuata e che invece spiega non solo quel verso di Marca Bru ma una lunga linea di poesia e poi questa poesia La Flors del Vergian dove sempre questa La Flors il fiore che è la poesia stessa e qui c'è una questa è una piccola parentesi dedicata ai cinque filologi romanzi in sala forse che saranno entusiasti nel vedere reso con senso celato il provenzale sens encartaz o chissà forse encartaz però cosa voglio dire che anche nel lavorare antologicamente Francesco Zambon ha dato delle interpretazioni e questa è la prima volta che un verso molto complicato viene reso con un piccolo ritocco con una titulus che manca una n che non si leggeva e quindi un verso ecartaz o encartaz è incartato è riempito di carta è rovesciato su se stesso ma quello razio che volevo citare con cui vado a chiudere è quello del totum nell'arts poetica in felix opera summa qui a ponere totum nesce la poesia deve poter porre il totum l'entiers deve poter restituire l'integralità del rapporto tra il contenuto e la forma ed è ciò di cui finora si è parlato quindi questa fraiciura questa spaccatura frammentazione del mondo riconduce ad un tema molto caro Francesco Zambon e caro a me ricordare questo libro che metto a favore di telecamera si intitola Le Legia nella notte del mondo un titolo che evidentemente richiama Hölderlin a Heidegger poesia contemporanea e ignosi e parte con un poemetto molto importante di John Donne l'anatomia del mondo An Anatomy of the World il quale viene pubblicato Armando Thurman non mi concede un minuto sto guardando l'orologio ma è troppo importante datare John Donne 1611 tutto è finito il mondo è lei è morta lei è morta quando sai questo sai che pallido fantasma è questo mondo lei è morta lei è morta quando sai questo sai che arida cenere è questo mondo tutto è finito tutto in una notte l'uomo è diventato nothing un nulla perché è così importante che sia uscito nel 1611 perché John Donne sta reagendo a una grande scoperta dell'anno precedente che è stata pubblicata dal più grande scienziato di ogni tempo Galileo Galilei che ha scritto il Siderius Nuncius nel quale dice John Donne viene provocato uno scompiglio all'armonia del mondo che è quella lei che è morta perché Donne lamenta che i poeti e gli scienziati stanno presentandoci un mondo tutto a pezzi in cui non c'è più senso coerente non c'è più armonia quella famosa armonia del mondo a cui Leo Spitzer dedicò uno dei suoi più bei libri non c'è più armonia c'è frammentazione c'è notte del mondo e soprattutto queste fratture sono quegli interstizi di cui magistralmente in uno o due dei saggi su Pessoa contenuti in questo libro in cui in questi interstizi che sono dei gaps c'è addirittura un king of gaps a un certo punto il re degli interstizi il re dei frammenti il re degli spazi aperti ma devo ricordare anche un altro nome che spero sia caro a tutti voi Simone Veil la quale nel suo libro non composto da lei ma con suoi frammenti tradotto da Franco Fortini peraltro la pesantezza la pesantezza la grassa lei dice ad un certo punto che bisogna che la immaginazione si interrompa ad un certo punto perché lasci la possibilità alla grazia alla grasse di filtrare attraverso le fissure dell'essere questa frase di Simone Veil mi ha sempre colpito enormemente perché anche lei ha un'istanza di tipo agnostico tornare indietro dalle fessure attraverso cui si coglie oscuramente la verità la verità è troppo grande per essere colta tutta intera e infatti Galilei comincia a dimostrare che dobbiamo provare e riprovare John Dunn reagisce io volevo la mia armonia del mondo perduto ecco il cozzare di queste posizioni e l'emergere di una tendenza agnostica a sognare l'intero l'integrale l'entiers che mi pare essere nascosta nella paraola oscura di molti di questi trovatori per chiudere questa mia parte e il mio intervento nella presentazione di questo libro che ho molto amato vorrei soltanto ricordare questo passaggio relativo a Montale ecco se c'è un poeta molto spesso oscuro ermetico è proprio Montale in un saggio dedicato a Francesco Zambon per la miscellanea di studi che gli è stata offerta io ho provato a prendere in parola gli insegnamenti di Francesco Zambon relativi a quella teologia della briciola teologia del piccolo dove il lampo la folgore lo scatto il barbaglio ci portano una verità che riesce a infiltrarsi negli interstizi briciola è parola montaliana ma voi pensate quante briciole quanti ossi di seppia quante cose piccole e morte ci sono in tutta la poesia moderna es barbaro eccetera c'è dell'abate e anche zanella no addirittura bene chiudiamo su questa teologia della briciola perché solo chi è piccolo ci propone parlando dell'anguilla Zambon solo chi è piccolo secondo l'antica immagine di casa sul mare può sovvertire ogni disegno e passare il varco che porta alla salvezza negata ai più si può parlare così di una vera e propria teologia della briciola pane eucaristico spezzato per i bipedi umani frammento di vita dissolta che ci nutre spero che queste parole inviteranno alcuni dei presenti a procurarsi e a leggere questa elegia nella notte del mondo che mi pare ci permetta di saldare questo desiderio inesauribile dell'intierezza della totalità della poesia in cui si riesca a dire la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro in forme e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo al polveroso prato non chiederci questa parola perché non te la possiamo dire c'è solo una risposta il piccolo il non l'inesatto l'imperfetto il mondo è pulcrum qui a imperfectum ed è questa una delle grandi leggi etiche morali della poesia moderna e mi pare anche della poesia antica costruire dei dispositivi testuali così complessi così apparentemente allegorici di se stessi per comunicarci questa verità profonda non riusciremo mai a cogliere l'interezza ma la poesia ci aiuta a risarcire dentro di noi le fratture le spezzature le lacerazioni proprio come in questi giorni grazie professor Bologna per questo il problema è che si rimane incantati da queste situazioni ed è difficile anche moderarle perché il moderatore dovrebbe essere freddo dovrebbe dare i tempi ma il professor Bologna è troppo coinvolgente il professor Zambon è troppo coinvolgente io vengo schiacciato in questa situazione professore Zambon le chiedo semplicemente adesso un po' di chiudere questa nostra carrellata questo nostro viaggio noi reduci del novecento l'immagine del naufragio della parola evocato da Heidegger è stato citato Heidegger si ha sempre questa paura insomma che la parola abbia perso il suo senso lo smartphone si è detto i giovani anche i non giovani che sono davanti all'immediato però questa poesia dei Trubber Clus diventa diventa qualcosa di diverso si evolve e allora questa evoluzione della corrente che arriva a noi che cosa possiamo dire proprio in chiusura di questa serata si allargare molto rapidamente l'orizzonte bisogna dire che nell'antichità classica non esisteva una teoria della poesia oscura mi pare l'oscurità come dice anche Orazio ma anche gli autori insomma di retorica antichi condannano l'oscurità in genere diciamo l'oscurità è presente soltanto nei misteri nell'iniziazione nell'esoterismo insomma antico non nella letteratura nella scrittura letteraria mi pare per cui l'esempio dei trovatori è una grande novità nel panorama occidentale della letteratura occidentale e questo diciamo questa teorizzazione dell'oscurità in poesia di un'oscurità necessaria nasce come si è un po' già detto insomma finora da a mio avviso dal modello biblico e cioè da una riflessione dei padri della chiesa e degli scrittori cristiani anche del basso medioevo sui passi della Bibbia volutamente oscuri il che rappresentava in un certo senso un paradosso perché la Bibbia essendo la rivelazione della parola divina dovrebbe essere chiara ma ci sono passi che sono per varie ragioni deliberatamente oscuri e appunto gli esegeti cristiani si sono interrogati sulla ragione di questa oscurità e in fondo le le spiegazioni ricorrenti quelle per esempio che dà Sant'Agostino sono due essenzialmente una è quella di tenere diciamo lontani in qualche modo i profani dai misteri più alti della fede questa soprattutto nella patristica antica è presente questa spiegazione in Agostino un po' meno ma soprattutto l'altra ragione è quella che ricordava anche prima Corrado Bologna e cioè bisogna esercitare il lettore allo studio accurato attento lento approfondito della scrittura e questo può servire a meglio comprendere e anche a gustare meglio perché poi c'è l'aspetto del piacere che Agostino stesso sottolinea è molto più piacevole riuscire a comprendere un testo un po' difficile un po' alla volta scoprire quello che non è subito chiaro faccio una brevissima parentesi in effetti i poeti oscuri sono molto più commentati di quelli chiari fare un commento a Saba per esempio non è dico che sia inutile ma insomma invece i commenti su poeti come Montale che hanno poesie molto oscure sono insomma numerosissimi e amplissimi ecco in Marca Bruno il Trobarclus nasce a mio parere proprio su questa base cioè è una trasposizione nella lirica profana che però ha alti contenuti morali in Marca Bruno e religiosi del modello dell'oscurità delle scritture cioè si tratta di una poesia che deve essere oscura che deve essere interpretata perché soltanto coloro che sono come dire che hanno le capacità che hanno la possibilità l'intelligenza per scoprire questi sensi oscuri possono arrivare alle verità più profonde che sono nascoste dietro questa poesia in seguito però e sono rapidissimo perché se ne è già parlato poeti come Reimbaut D'Aurenga e Arnaut Daniel fanno evolvere questa teoria dell'oscurità in un senso più squisitamente letterario cioè non si tratta più di scrivere una poesia oscura di cui bisogna comprendere i significati profondi i significati allegorici ma è una poesia oscura comunque difficile perché è costruita formalmente in maniera così raffinata così studiata così preziosa che soltanto chi ha determinate capacità naturalmente di comprensione e di lettura anche in questo caso può arrivare veramente a gustare e ad apprezzare per il suo valore e questa evoluzione ci porta chiaramente verso la modernità verso la poesia moderna nella quale l'oscurità è come tutti sanno insomma credo sia un'esperienza di tutti i lettori di poesia moderna e contemporanea molto frequente secondo alcuni critici i grandi critici teorici della letteratura come per esempio Ugo Friedrich il tedesco Ugo Friedrich oppure Eric Heller questa oscurità è addirittura qualche cosa di costitutivo e di necessario nella poesia contemporanea di costitutivo e di necessario perché in fondo la poesia contemporanea il linguaggio poetico contemporaneo nasce in contrapposizione al linguaggio normale della comunicazione questa idea è ben presente in Baudelaire in Mallarmé e in tanti altri e quindi si va verso l'idea di una poesia che sia in qualche modo autosufficiente e contrapposta al linguaggio usurato e banale della comunicazione comune riflesso naturalmente di un mondo che è visto essenzialmente come mondo ostile come un mondo del male insomma nel novecento soprattutto no? quindi è un po' l'idea che Paul Valéry ha definito con l'espressione di poesia assoluta no? questa poesia assoluta è quasi necessariamente oscura è quasi obbligatoriamente oscura proprio perché non è scritta con il linguaggio normale della comunicazione e qui e chiudo con questo una piccola curiosità che però così un po' abbastanza inquietante no? prima Corrado Bologna ricordava questo sonetto famosissimo di Boller che finisce con la primo verso con la rima in X e poi naturalmente tutte le altre rime corrispondenti in X e appunto ha detto il sonetto in X se pur zung le tre o di un loro in X che Mallarmé stesso ha definito come sonetto allegorico di se stesso ed è una cosa che si potrebbe dire anche del del R. Splang La Florsenversa e di altre poesie dei diciamo dei seguaci del Troubarclous ora una delle poesie più importanti proprio forse l'esempio massimo di Troubarclous di uno di questi trovatori e cioè Giraud Bornell già citato comincia proprio con un verso che rima in X Sim Sentis Fisels Amix e dopo naturalmente nella stessa strofa la rima in X è ripetuta e siccome si tratta di cosiddette Koblas Unisonans cioè tutte le strofe hanno le stesse rime queste due rime in X che sono quelle del primo verso sempre importantissimo nell'incipit delle poesie dei trovatori si ripete per tutta quella canzone questo collegamento quasi misterioso insomma perché Mallarmé certamente non conosceva Giraud Bornelli credo sia già stato fatto da qualche critico di Mallarmé ed è così non è in se stesso tanto importante però un piccolo indizio di questo rapporto che certamente è molto più profondo tra l'esperienza del Troubarcluse e la più grande e più importante poesia contemporanea fammi aggiungere Francesco che Mallarmé può aver letto in Dante che nel divulgare Eloquenza dice proprio ad aver imitato nella sua sestina Sincentis Fiselsamix quindi può darsi che Dante cita questa poesia Mallarmé e Dante l'ha letto sicuramente l'ha letto sicuramente io vorrei ringraziarvi perché sovente diciamo così anche i moderatori si emozionano e questa sera diciamo che il viaggio nei versi di questo fiore in versi è stato piuttosto complesso particolare ha toccato la teologia la filosofia ha toccato diverse figure ha coinvolto anche alcuni momenti emotivi di quella che è la storia della cultura perché la cultura è anche emozione è anche che so io passione è anche errore a volte ma a volte è anche riscatto è anche appunto speranza io nel chiudere questa serata poi ci sarà un saluto di Monsignor Borgonovo se appunto desidera farlo lui che conosce perfettamente la poesia biblica vorrei ricordare che questa serata è stata registrata tra l'altro con mezzi nuovi quindi abbiamo delle riprese avveniaristiche così mi hanno detto i tecnici e Mariella e quindi la vedrete sul sito del Duomo in primis e poi la vedrete su Youtube come in seguito e sarà a disposizione un po' di tutti so che siamo seguiti dalle scuole ogni tanto c'è qualche scuola che ci adotta qualche classe di liceo che risente le nostre serate la prossima sarà il 4 aprile e il 4 aprile saremo diciamo in un'esterna perché saremo nella sala della sala delle conferenze di Palazzo Reale qua accanto sempre alle 18.30 e ci trasferiremo perché avremo con noi il rabbino David Shunach avremo con noi anche un pastore evangelico che si è specializzato in ebraistica alla Sorbona che è Marco Fornerone e avremo Monsignor Borgonovo parleremo in particolare di un libro almeno partiremo da un libro di Peter Schaeffer che è Gesù nel Talmud e vedremo anche come questa riflessione ci possa portare e diciamo così preparare in un modo piuttosto diciamo diverso se non in un modo abbastanza diciamo sensibile alla Pasqua Monsignor Borgonovo le do il microfono per un saluto o lei ce l'ha già ecco ce l'ha già ce l'ho già incorporato ecco cosa dire cosa dire dopo una serata di questo genere dico che quell'inchiero evocato dai trovadori appunto è quell'inchiero che anche noi cerchiamo nella nostra vita da tutte le parti quello di quello svelamento che ci è dato nel frammento di ogni giorno e la cosa più importante è proprio quella di approfondire questo frammento non giudicandolo come una dispersione senza senso ma una tessera di un mosaico grandioso dobbiamo scoprirci così e noi da noi stessi non lo vedremo mai questo mosaico non l'avremmo mai manco pensato per fortuna c'è l'angelo necessario che ce lo svela arrivederci a grazie